L'attività dei ragazzi è ancora focalizzata sull'aspetto fisico, abbiamo un pre-season per ovvie ragioni molto lungo, quindi abbiamo cominciato gradualmente seguendo i protocolli che ci hanno inviato, quindi molta corsa, ovviamente no contatto, e dalla settimana scorsa abbiamo cominciato anche a passarci un pochino più il pallone, quindi abbiamo potuto variare un pochino quelli che sono gli esercizi e anche un po' introdurre un po' del rugby sull'aspetto tecnico, ma per questo blocco che è di quattro settimane il focus principale sarà ancora quello fisico. Le sfide di agosto sono delle partite ufficiali, fanno parte del campionato della stagione 2019-2020, quindi noi le prepariamo per arrivare nelle migliori condizioni possibili, abbiamo la fortuna di avere del tempo, quindi recuperare comunque anche qualche acciacco e lavorare, riprendere un pochino dalle basi quello che è la preparazione della squadra, essere pronti fisicamente perché dopo un periodo di lockdown, che è una situazione che non abbiamo mai vissuto, anche noi dobbiamo capire qual è ovviamente lo stato fisico nella competizione dei giocatori, quindi abbiamo fortuna di avere del tempo, come ho detto, e l'obiettivo nostro è quello di performare al meglio e fare due grandi prestazioni. La preparazione, diciamo che, come ho detto prima, è un pre-season un po' particolare perché c'è stato molto dubbio su come sarebbe ripartito, quindi i ragazzi, soprattutto la preparazione fisica e tutti noi insieme, abbiamo messo sul tavolo scenari diversi, quindi ci siamo preparati e ripeto, i ragazzi della preparazione fisica hanno fatto un lavoro incredibile, quindi per qualsiasi scenario si fosse proposto a noi, eravamo pronti per affrontarlo nel modo giusto. Adesso sembra che le linee si siano un pochino, diciamo, che lo scenario ce ne sia uno, che è quello che hai detto tu, quindi non c'è niente particolare, i ragazzi hanno preparato il programma per questo blocco di quattro settimane e per i blocchi successivi alle partite con le Zebre, quindi tutto a posto, salvo cambiamenti, siamo partiti. I ragazzi, i nuovi permidi quest'anno, ci hanno sorpreso, uno per la preparazione, la qualità fisica, la professionalità che mettono ogni giorno, quindi non c'è stato alcun problema fino ad oggi nel loro inserimento, anzi, sono uno stimolo per tutti, è anche un po' quello che gli si chiede, uno sono qui per formarsi e crescere, ma sono anche qui per mettere un pochino di pressione sui giocatori che ci sono, quindi da questo punto di vista molto bene. Adesso deve cominciare il rugby, spero a breve, quindi già lì avremo un'altra visione su di loro, che non è quella fisica, ma quella più regbistica, però sono convinto che abbiamo fatto sei acquisti molto importanti. Ma come siamo molto contenti dei permit, sicuramente anche gli innesti, parlo per quanto mi riguarda, per i tre quarti sono di gran valore, perché Edo è un giocatore che conosciamo, è un giocatore versatile, che ci darà sicuramente moltissimo sia nel ruolo di estremo che di apertura, eventualmente anche in altri ruoli, come ha già fatto il nazionale o le Zebre, e Callum lo stesso, un giocatore che viene da un campionato importante, è un giocatore nazionale, quindi avrà un valore aggiunto importante anche per noi sul campo. Le nuove regole che sono state introdotte sono soprattutto per quanto riguarda l'ambito del contatto, la zona di contatto, quindi riguardano tutti, non guardano solo i tre quarti, ma anche gli avanti, quindi queste regole vanno soprattutto a influire quelle che sono le situazioni prolungate di contatto, quindi la mischia, il drive, la zona di placaggio. Se guardiamo un pochino le partite super rugby che sono state negli ultimi due settimane, ovviamente siamo in un periodo di adattamento, di prova anche per loro, però sicuramente stiamo cercando di lavorare in modo diverso un pochino sulle rack, per proteggere un po' quello che è l'attacco, e di velocizzare il gioco, quindi probabilmente questi sono i cambiamenti più importanti. Mario, dal suo punto di vista, anche lui dovrà adattare il suo lavoro nella zona di contatto per quanto riguarda la difesa, perché forse ci sono delle opportunità in più per recuperare il pallone, però è molto più sul generale della squadra, quindi lo vedremo quando cominceremo a fare regga.